Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Per le storie di coppia del mondo del true crime, il rosso non è la ferma dell'amore, bensì, purtroppo, quella del sangue. Alcune donne credono di aver sposato un uomo dolce, che però rivela il suo lato oscuro e segreti imprevedibili dopo il matrimonio. È il 2018, ci troviamo in un sobborgo chiamato Lindrup, che si trova a Middlesburg, in Inghilterra. Qui vive Jessica Patel, una donna di 34 anni, con suo marito Mitesh Patel. Jessica nasce nel 1983 e proviene da una famiglia hindù molto numerosa. Suo padre si chiama Jayantilal, sua madre Harsha e le sue due sorelle minori, Minal e Divya. Tuttavia, in casa Patel vivono ben più di 5 persone, perché il nucleo comprende 12 membri, includendo anche zie, zii e cugini. Da piccola Jessica abita a Leeds, nel West Yorkshire, dove i suoi cari gestiscono un minimarket. Si tratta di un'attività in proprio, a conduzione familiare. Jessica vive un'infanzia felice e spensierata. È una bambina gioiosa e tranquilla. Infatti, non causa mai alcun problema ai suoi genitori. È molto legata alle sue sorelle. Divya descrive Jessica come una sorella molto paziente, ma anche simpaticissima perché dotata di uno straordinario senso dell'umorismo. Jessica però è anche una ragazzina che ama il romanticismo. Sogna di trovare il grande amore della sua vita, di sposarsi e avere figli. Intanto, mentre cresce, guarda molti film romantici di Bollywood insieme alle sue sorelle. Ma i sogni di questa giovane donna ambiziosa non finiscono di certo qui. Jessica vorrebbe anche diventare una farmacista, quindi nel 2002, all'età di 19 anni, compie i primi passi per dare concretezza a questo obiettivo. La ragazza lascia così la casa di famiglia, si iscrive all'università e inizia a frequentare un corso di scienze farmaceutiche, dove si imbatte in una vecchia conoscenza, un uomo di nome Mitesh Patel. Anche lui proviene da una famiglia hindu che vive nel West Yorkshire. I loro parenti ogni tanto si frequentano. Jessica e Mitesh da piccoli giocavano insieme, ma poi si erano persi di vista. Dunque, si rincontrano all'università, perché seguono lo stesso corso e entrambi aspirano a lavorare nell'industria farmaceutica. I due sono contenti di essersi ritrovati. Tra loro c'è complicità, così prendono a frequentarsi e, poco dopo, si fidanzano. Purtroppo, però, in questo stesso periodo, Jessica deve affrontare una grave perdita. Sua madre, a seguito di diverse visite mediche, ha scoperto di avere un cancro allo stadio terminale. Di conseguenza, la sua salute è peggiorata gradualmente nel tempo. La malattia di Arsha è un duro colpo per tutta la sua famiglia. Jessica è sempre presente per sua madre, va a trovarla tutte le volte che può e si prende cura di lei. Nel 2005, quando Arsha viene a mancare, Jessica diventa un importante punto di riferimento per la sua famiglia. Ovviamente, anche lei soffre molto a causa del lutto, ma si sforza di mettere da parte il dolore che prova, perché ora la sua priorità sono suo padre e le sue sorelline. Jessica vuole assicurarsi che stiano bene ed è sempre pronta a sostenerli e a confortarli. Questo ci dice molto sul tipo di donna che è Jessica. Gentile, premurosa e forte. Intanto, nel periodo segnato dalla malattia e poi dalla morte di Arsha, Jessica ha messo in pausa la sua relazione con Mitesh. La ragazza ha davvero tante cose di cui preoccuparsi, ma Mitesh è sempre lì con lei, pronta ad ascoltarla e consolarla ogni volta che Jessica ne ha avvertito il bisogno. Così, col tempo, la coppia ricostruisce la relazione. Mitesh, come detto, è un uomo molto presente e le fa tanti regalini teneri. Ad esempio, le compra diversi pupazzi di orsacchiotti, sapendo che Jessica adora collezionarli. Minal, la sua sorellina più piccola, ricorda che Jessica e Mitesh si telefonavano ogni sera, ma non volevano mai riattaccare la chiamata, anche quando era giunta l'ora di andare a dormire. Infatti, Minal, per minuti interi, sentiva Jessica ripetere durante le chiamate «Dai, metti giù tu!». Il loro legame è talmente forte che Jessica e Mitesh decidono di sposarsi mentre la ragazza sta frequentando il suo ultimo anno all'università. La sua famiglia non si aspettava che lei avrebbe scelto di compiere un passo così importante, perché non è fidanzata da molto, ma Jessica non trova motivo per aspettare. Ama davvero tanto Mitesh e vuole passare il resto della sua vita con lui. Sembra che il suo sogno si stia avverando, Jessica ha sempre voluto questo, trovare un uomo che la ama nel profondo e sposarlo. I due convolano a nozze nel luglio del 2009 e per l'occasione viene celebrato un matrimonio indiano tradizionale. Tutti gli amici e i parenti di Jessica sono lì per lei, la sposa indossa un abito maestoso che ha scelto insieme alle sue sorelle e, a detta di tutti, quella è stata una giornata davvero incantevole. A distanza di un paio d'anni dal matrimonio, la coppia decide di trasferirsi dal West Yorkshire a Lintrop, che si trova nel Middlesburg. I coniugi comprano una casa deliziosa e avvirano la loro attività. Ottengono un contratto di locazione per una farmacia che non è troppo lontana dalla loro abitazione. Jessica si sente una donna davvero fortunata. Sta realizzando tutti i suoi sogni, le sembra di essere la protagonista di uno di quei film romantici che amava tanto guardare da piccola con le sue sorelline. Tuttavia, Jessica resta ancora un desiderio da esaudire. Vuole avere dei figli. Essere mamma è sempre stata la sua vocazione. Così, una volta che si è stabilizzata a Lintrop, la coppia prova ad avere un bambino. Per sua sfortuna, Jessica non riesce proprio a rimanere incinta. Allora, lei e il marito decidono di rivolgersi ai medici che propongono di tentare con la fecondazione in vitro. Nei successivi tre anni, Jessica si sottopone a tre cicli di trattamento per l'inseminazione in vitro, ma purtroppo ogni volta non ha successo. Non riesce ancora a rimanere incinta. Come immaginate, ogni tentativo fallito produce effetti devastanti per Jessica che vuole disperatamente essere mamma. Stressata da questa situazione, la donna sviluppa un'ansia davvero insostenibile. Inizia a soffrire di attacchi di panico perché pensa in continuazione che non è in grado di concepire e neanche con la fecondazione in vitro. Tutta questa frustrazione ha inevitabilmente impattato sulla salute mentale di Jessica. Così il suo medico le prescrive dei farmaci per cercare di alleviare l'ansia. Nella primavera del 2018, finalmente la fecondazione in vitro delinea delle prospettive più positive. Jessica si è sottoposta al quarto ciclo del trattamento e il medico le dice che questa volta il quadro sembra davvero promettente. Riesce a congelare un paio di embrioni da impiantare nel giugno del 2018. Jessica ora è fiduciosa che questo quarto tentativo darà i suoi frutti, che riuscirà davvero a diventare mamma. Purtroppo Jessica non riuscirà mai ad avverare il suo sogno di avere un bambino. Manca soltanto un mese al trasferimento degli embrioni nel suo utero, ma lei non potrà sottoporsi a quest'ulteriore passaggio perché viene brutalmente assassinata a casa sua. Sono le 20 e 24 del 14 maggio 2018 quando un operatore del 999 riceve una chiamata dal 37enne Mitesh Patel. L'uomo è isterico, piange e sembra assalito dal panico. Riferisce all'operatore che è appena tornato a casa e si è reso conto che la sua abitazione versa in un disastro totale. Crede che dei ladri abbiano fatto irruzione aggredendo anche sua moglie che è riversa sul pavimento del soggiorno. Jessica ha perso i sensi, non respira, ha le mani e le caviglie legate tra loro con del nastro adesivo. Un'ambulanza corre a casa dei Patel e poco dopo arriva anche la polizia. I paramedici provano immediatamente a rianimare Jessica, ma è troppo tardi, nonostante i loro sforzi, non riescono a salvarla. La giovane donna viene dichiarata morta e la polizia avvia l'indagine per scoprire cosa l'ha condotta a questa triste fine. In effetti, gli indizi presenti sulla scena del crimine suggeriscono che sia avvenuto un tentativo maldestro di furto. I due piani della casa risultano entrambi devastati dal caos, ci sono vestiti sparsi sul pavimento e altri effetti personali della coppia sono stati scagliati ovunque. Insomma, sembra che uno o più ladri abbiano girato per tutta la casa per decidere cosa rubare. Probabilmente, siccome si sono imbattuti in Jessica, hanno deciso di ucciderla. Purse lei li aveva visti in faccia, quindi era una valida testimone. Sarebbe potuta andare dalla polizia a fornire una descrizione dei ladri. Dunque, la scena del crimine viene isolata e una squadra forense si occupa di cercare ulteriori indizi ed eventuali prove. Nel frattempo, altri agenti hanno fretta di parlare con il marito della vittima, Mitesh Patel. Dato che è stato lui a trovarla, è fondamentale ottenere una sua dichiarazione sui fatti. Inoltre, Mitesh può essere di supporto per ricostruire i movimenti sia suoi che della moglie in relazione alla giornata. Ecco la sequenza temporale degli eventi fornita da Mitesh. La mattina del giorno in cui Jessica è stata uccisa, cioè quella del 14 maggio 2018, lei e suo marito Mitesh hanno lavorato nella loro farmacia. A un certo punto, il padre di Jessica è passato da lì per salutare entrambi. Ha abbracciato la figlia e le ha chiesto se si sarebbero rivisti la settimana seguente. Dopo aver concluso la prima parte del turno di lavoro, Mitesh è andato in palestra nel pomeriggio per poi tornare alla farmacia per un altro po' di tempo. Jessica, invece, al termine del suo turno, è tornata a casa verso le 19. Mitesh, infine, è andato in pizzeria e ha ordinato una pizza da mangiare insieme a sua moglie. Mentre aspettava nel locale, ha anche mandato un messaggio a Jessica per avvisarla che, di lì a poco, sarebbe tornato a casa. Il suo ordine era quasi pronto. Questo è successo circa alle 20 di sera. La polizia, per confermare o smentire quanto detto da Mitesh, si reca alla pizzeria, richiede i filmati della telecamera al circuito chiuso dell'attività e scopre che lui non ha mentito. Il video mostra a Mitesh che ordina e paga la pizza. Dopodiché Mitesh è tornato a casa con la cena, ma, appena avarcato la soglia della porta d'ingresso, ha trovato sua moglie legata e riversa sul pavimento del soggiorno. Così ha chiamato i servizi di emergenza. In seguito alla scoperta del corpo di Jessica, la polizia dà la tragica notizia ai suoi familiari, i quali, terribilmente addolorati, decidono di recarsi tutti a Mitesh per stare vicini a Mitesh. Vogliono sostenerlo dato che lui è solo ed è comprensibilmente distrutto. Nel frattempo, gli investigatori proseguono con l'indagine. Ancora convinti che l'omicidio di Jessica si è legato a una tentata rapina finita nel modo peggiore. Ciò nonostante, in casa non si evidenzano segni di effrazione, per cui si delineano due ipotesi. Il ladro ha bussato alla porta di casa di Jessica e quando lei ha aperto la spinta all'interno, l'ha intrappolata e ha cominciato a devastare l'abitazione. Oppure, Jessica conosceva il suo assassino, quindi, quando lui ha bussato alla porta, lo ha fatto serenamente accomodare in casa. Tenendo conto di questa seconda possibilità, la polizia indaga sulle persone che ruotavano intorno alla vita di Jessica per cercare di determinare se qualcuno di loro avesse avuto l'opportunità o la capacità di ucciderla. Quanto alla causa esatta del decesso, l'autopsia eseguita in laboratorio sul suo cadavere rivela che Jessica è morta a seguito di una pressione che il colpevole le ha esercitato sul collo, strangolandola a morte. Il medico legale spiega anche che l'assassino ha tentato di soffocare la vittima usando un sacchetto di plastica di un supermercato. Questa busta di plastica è stata effettivamente trovata sulla scena del crimine e al suo interno sono state individuate proprio delle tracce del sangue e della saliva di Jessica. Inoltre, la polizia chiede a Mitesh l'autorizzazione per esaminare i filmati registrati dalla telecamera a circuito chiuso che i coniugi Patel, molto attenti alla sicurezza, avevano installato all'esterno della propria casa. Probabilmente il colpevole è stato ripreso mentre entrava nella loro proprietà. Di conseguenza apparirà nel video di sorveglianza. Tuttavia, Mitesh spiega che quella telecamera non funziona, quindi non ha registrato alcun filmato. Per la polizia questa è una cattiva notizia, ma i detektivi non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Infatti, effettuano un'altra perquisizione a casa della coppia per tentare di raccogliere ulteriori indizi e riescono a trovarne uno prezioso. Nascosto sotto il materasso del letto dove dormiva la coppia c'è un disco rigido avvolto in alcuni vestiti. La polizia stabilisce immediatamente che l'hard disk contiene il filmato di sorveglianza della telecamera di sicurezza installata all'esterno dell'abitazione. Quella stessa telecamera che stando alle parole di Mitesh non funzionava. Questo vuol dire che l'uomo ha mentito alla polizia. Perché ha nascosto il disco rigido? Questa scoperta insospettisce gli investigatori. Forse è stato proprio Mitesh a uccidere sua moglie Jessica? Del resto, se fosse innocente, che problemi avrebbe a consegnare l'hard disk alle autorità? Perché non vuole che i detective vedano il filmato? La polizia, esaminando i file presenti nella memoria di archiviazione, scopre che contiene anche i filmati del giorno in cui Jessica è stata uccisa. Quindi, la telecamera di sicurezza era accesa e funzionante. Prima di svelarvi ciò che la polizia ha visto in queste riprese, voglio ricapitolarvi ciò che Mitesh ha riferito riguardo ai suoi spostamenti e a quelli di sua moglie nel giorno del delitto. Mitesh ha raccontato che erano entrambi a lavorare nella loro farmacia la mattina del 14 maggio 2018 e questo risulta vero. Mitesh ha poi affermato che si era diretto in palestra e anche questo viene confermato. Ha infine dichiarato di essere tornato in farmacia per un po' e di essere andato in pizzeria per acquistare la cena per lui e sua moglie. Nel frattempo anche Jessica aveva concluso il suo turno in farmacia ed era tornata a casa dove intanto si trovava quindi da sola. Mitesh dialogando con la polizia ha detto che mentre era fuori casa quel pomeriggio di certo un ladro si era introdotto nell'abitazione si era imbattuto in Jessica e per non rischiare che lei testimoniasse contro di lui l'aveva aggredita e uccisa. Tuttavia il filmato della telecamera a circuito chiuso presente all'esterno della casa dei Patel smentisce completamente la versione di Mitesh. Insomma quest'uomo ha raccontato un mucchio di bugie. Il video mostra che alle 15.30 di quel pomeriggio l'automobile di Mitesh entra nel vialetto di casa. Quindi Mitesh appena tornato dalla palestra non è davvero andato di nuovo in farmacia bensì è rimasto a casa da solo per ore. Poi verso le 19 il filmato inquadra anche l'auto di Jessica che entra nel vialetto e parcheggia infatti lei era appena tornata dal lavoro. Circa 40 minuti dopo alle 19.42 Mitesh esce di casa e risale a bordo della sua macchina per dirigersi in pizzeria. Come sappiamo la telecamera del locale lo riprende intorno alle 20. alle 20.15 la telecamera è installata all'esterno dell'abitazione immortale al suo rientro a casa. Un paio di minuti dopo il filmato si interrompe. Ciò vuol dire che Mitesh a questo punto aveva deciso di spegnere la telecamera aveva prelevato il disco rigido e l'aveva nascosto sotto il letto. Alle 20.24 quasi 10 minuti dopo il suo ritorno a casa aveva contattato il 999 per riferire all'operatore che aveva trovato sua moglie inerte e legata sul pavimento del soggiorno. È strano che abbia aspettato così tanto prima di chiamare i soccorsi dato che il corpo di Jessica si trovava in soggiorno quindi lui l'aveva visto non appena era entrato nell'abitazione. Mitesh aveva detto all'operatore che probabilmente un ladro si era introdotto in casa e aveva ucciso Jessica ma come detto questa versione si rivela falsa proprio grazie al filmato. Infatti non ci sono tracce di persone che attraversano il violetto che conduce alla porta d'ingresso eccetto Jessica e suo marito Mitesh. Ora Mitesh Patel è il principale sospettato in questa indagina di omicidio. La polizia può provare che ha mentito su innumerevoli aspetti. Il filmato prova che quando Jessica era tornata a casa dal lavoro Mitesh era già in casa ed era l'unica persona lì presente. Gli investigatori credono che lui la stesse aspettando per tenderle un agguato che l'avesse aggredita e uccisa non appena lei aveva varcato la soglia d'ingresso. Poi per coprire le proprie tracce Mitesh era uscito di casa ed era andato a prendere la pizza. Infine aveva finto di scoprire il corpo esanime di sua moglie Jessica una volta rientrato. Quando emergono queste prove la polizia arresta Mitesh Patel con l'accusa di omicidio. Sono passati tre giorni dal delitto di Jessica. La polizia è piuttosto sicura di avere in pugno il colpevole. Mitesh ha ucciso Jessica sì ma bisogna ancora comprendere qual è il movente. Dando un'occhiata più approfondita alla vita privata di Mitesh i detective scoprono la verità. In realtà Mitesh era un marito infedele. Aveva tradito sua moglie per diversi anni e con diverse persone tutti uomini perché Mitesh è segretamente omosessuale. È conscio del suo orientamento da molto tempo da ben prima che lui e Jessica si sposassero ma non l'ha mai dichiarato perché proviene da una famiglia hindù molto severa e tradizionalista. Essere gay per i suoi parenti non solo è sbagliato ma anche vergognoso loro sono tutti omofobi. Mitesh sa che se avesse fatto coming out la sua famiglia l'avrebbe rinnegato. Ecco perché ha mantenuto il suo orientamento sessuale segreto. Anzi si ritiene che abbia sposato Jessica proprio per non destare sospetti e dimostrare che è un uomo eterosessuale. Come sappiamo Mitesh intendeva sposare Jessica il prima possibile proprio lui aveva insistito affinché non aspettassero troppo. Jessica però era all'oscuro delle sue tendenze lei lo amava tanto e non aveva idea che lui la stesse usando. Così si erano sposati ma il loro era ben lontano dall'essere un matrimonio felice. Presto Jessica aveva iniziato a sentirsi ignorata e trascurata da suo marito. Questa situazione l'aveva di certo stranita visto che Mitesh aveva insistito tanto per sposarla subito. Tra l'altro prima del matrimonio la trattava come una principessa era primulosa e amorevole la riempiva di regali mentre ora che erano marito e moglie non le mostrava più affetto. Anzi col tempo aveva iniziato a manipolare Jessica e era diventato davvero prepotente e controllava tutto ciò che sua moglie faceva. Ad esempio nel febbraio del 2010 meno di un anno dopo le nozze il nonno di Jessica si era ammalato gravemente e non gli restava molto tempo da vivere. Questa situazione addolorava Jessica che gli era tanto affezionata e desiderava passare più tempo possibile con il nonno sapendo che presto non avrebbe più potuto stargli vicino. La nipota andava a trovarla ogni volta che poteva ma Mitesh non le permetteva di restare accanto a lui per molto tempo. La polizia teorizza che Mitesh volesse isolare Jessica allontanarla dalla sua famiglia. Jessica voleva presenziare il capezzale del nonno con il resto della famiglia stringergli la mano quando lui avrebbe esalato l'ultimo respiro ma Mitesh insisteva quotidianamente affinché lei tornasse a casa. Un giorno proprio a proposito della situazione di salute del nonno la coppia aveva avuto una discussione accesa in macchina che si era conclusa con Mitesh che aveva picchiato Jessica. Quindi Mitesh non era solo opprimente e sia mentalmente che emotivamente aggressivo nei confronti di sua moglie ma era diventato anche fisicamente violento e questo tipo di violenza era aumentato e peggiorato sempre di più nel corso del tempo. Inoltre durante gli anni di matrimonio Jessica aveva iniziato a notare che Mitesh era parecchio legato al suo cellulare lo portava con sé ovunque e non lo lasciava mai nemmeno quando andava in bagno. Trascorreva molto tempo a parlare al telefono e non voleva che Jessica sentisse cosa stava dicendo o scoprisse con chi dialogava. Infatti se lei entrava nella stanza mentre lui era impegnato in una conversazione Mitesh si spostava altrove in cerca di riservatezza. All'inizio Jessica pensava che suo marito si confidasse con un amico ma dato che Mitesh dedicava sempre più tempo al suo interlocutore lei aveva iniziato a preoccuparsi. Forse quel rapporto nascondeva qualcosa di più e aveva ragione. Anzi non solo Mitesh conversava segretamente con vari uomini infatti aveva scaricato Grindr un'app di incontri al servizio della comunità LGBTQ. Dopo l'approccio virtuale Mitesh si dava appuntamento con i suoi contatti e andava a letto con loro all'insaputa della moglie. Nessuna delle relazioni extracognugali di Mitesh era seria. Però dopo due anni di matrimonio nel 2011 Mitesh aveva iniziato a parlare con un uomo di nome Amit sempre tramite l'app di Grindr ed Amit era diverso da tutti gli altri gli piaceva davvero era speciale per lui. Mitesh si era perdutamente innamorato di Amit e lui ricambiava questi sentimenti così avevano iniziato una relazione. Si mandavano messaggi e si chiamavano ogni volta che potevano. Secondo una fonte Amit era anche stato ospite a casa di Mitesh e Jessica. Mitesh aveva detto a sua moglie che lui era un suo caro amico ma ovviamente questa era una bugia e la verità era poi venuta a galla nel dicembre del 2012. Mitesh e Jessica si trovavano a un evento con la famiglia di lei e in questa occasione Divya una delle sorelle di Jessica aveva intravisto alcuni messaggi apparire sul telefono di Mitesh. Stranamente quella volta lui lo aveva lasciato in custodito. I messaggi in questione provenivano proprio da Amit il quale scriveva a Mitesh che lo amava. Divya sconvolta aveva afferrato il telefono aveva letto la conversazione e scoperto che Mitesh aveva scritto ad Amit la stessa cosa. Lui per primo gli aveva detto di amarlo. Divya non poteva nascondere un simile inganno a sua sorella così le aveva raccontato ciò che aveva letto dal telefono di Mitesh. Jessica in risposta era molto turbata ma non sapeva cosa fare come gestire questa situazione. Infine aveva deciso di parlare con i familiari di suo marito. voleva ascoltare i loro consigli ma i parenti di Mitesh erano stati tutt'altro che d'aiuto. Infatti l'avevano accusata di essersi inventata tutto aggiungendo che doveva imparare a essere una moglie migliore per Mitesh. Dovete sapere che nella loro comunità il divorzio non era un'opzione considerabile. Mitesh e Jessica non potevano separarsi perché anche questo avrebbe portato vergogna alla famiglia e Jessica avrebbe danneggiato la sua reputazione e si avesse divorziato da Mitesh. La reazione della famiglia di Mitesh letta tra le righe vuole indurre Jessica a sopportare e stare in silenzio. Immagino quanto questa situazione abbia ferito la povera Jessica. Non era di certo colpa su se suo marito la stava tradendo, se le aveva mentito sul proprio orientamento sessuale. Eppure le falle del matrimonio con Mitesh vengono attribuite tutte a lei. Jessica aveva creduto di dover assecondare le richieste della famiglia di suo marito. Si era impegnata molto per far funzionare questa unione e nonostante le bugie e i tradimenti di Mitesh lei lo amava ancora e voleva un figlio da lui. Non molto tempo dopo come sappiamo Jessica e Mitesh si erano trasferiti all'Intorp. Si presume che Mitesh avesse preso questa decisione per isolare ulteriormente Jessica dagli amici e dalla famiglia in modo che lei non avesse più nessuno con cui parlare. Jessica infatti dopo il trasferimento riusciva a malapena a vedere la propria famiglia. Nonostante ciò Jessica sperava con tutto il cuore che questo trasloco corrispondesse a un nuovo inizio che lei e Mitesh potessero lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato e ricominciare. Jessica però si sbagliava perché Mitesh non aveva neanche smesso di sentire Amit anzi continuava a tradirla e a comportarsi come un marito vile. Mitesh era sempre scortese con lei e questo possono testimoniarlo i dipendenti della loro farmacia i quali hanno assistito più volte al trattamento arrogante e perfido che Mitesh riservava a sua moglie. Jessica sopportava tutto forse ormai era abituata ai modi bruschi di Mitesh che si era dimostrato dolce e garbato soltanto all'inizio della loro relazione prima del matrimonio. Visto che l'uomo non si faceva alcun problema a screditare Jessica in pubblico è facile immaginare quanto male potesse trattarla quando erano soli. Per di più gli uomini fisici erano diventati più duri e frequenti dato che spesso Jessica era stata vista con la pelle annerita dai lividi. A volte quando si arrabbiava Mitesh la prendeva anche per il collo. Circa sei anni dopo il loro matrimonio Mitesh e Jessica avevano iniziato a ricevere un po' di pressione da parte della famiglia di lui affinché generassero una prole. Come sappiamo Jessica desiderava disperatamente di avere dei bambini. Era una vocazione forte la sua e stava cercando di rimanere incinta ma in realtà non ci riusciva anche perché lei e suo marito avevano davvero pochi rapporti intimi. Mitesh non voleva mai andare a letto con Jessica perché non era attratto da lei né da altre donne. ecco perché la coppia aveva deciso di intraprendere la strada della fecondazione in vitro. Mitesh voleva diventare papà ma non voleva avere un figlio con Jessica. Ecco il movente dell'omicidio. La polizia indagando sul principale sospettato di questo delitto ha scoperto che Mitesh aveva un piano ben preciso e diabolico. Mitesh esortava Jessica a sottoporsi a una serie di cicli di fecondazione in vitro perché voleva sottrarre i suoi embrioni fertilizzati e scappare in Australia dove dal 2016 vive il suo amante Amit. Intendeva utilizzarli per dare vita alla sua nuova famiglia dall'altra parte del mondo impiantandoli in una madre surrogata o pagando un'altra donna disposta ad accettare la responsabilità della gestazione. Gli investigatori scoprono addirittura che durante il periodo in cui Jessica aveva provato a rimanere incinta Mitesh stava assumendo delle compresse per abbassare il numero di spermatozoi. Ormai è chiaro Mitesh non voleva una famiglia con Jessica ma con Amit e Jessica purtroppo non lo sospettava. Era così felice all'idea che presto sarebbe diventata mamma e per tutto il tempo era rimasta all'oscuro del piano malvagio di suo marito. Come detto durante il 2018 Jessica si era sottoposta al quarto ciclo di fecondazione in vitro quello che aveva avuto successo infatti i dottori le avevano detto che il quadro medico era positivo dato che erano riusciti a congelare un paio di embrioni. Quindi si ritiene che Mitesh volesse sbarazzarsi di Jessica e appropriarsi degli embrioni fertilizzati per iniziare una nuova vita per creare una nuova famiglia con Amit in Australia. Questo grande sogno frullava nella sua testa ormai da diversi anni e ora gli sembrava finalmente a portata di mano. L'unica cosa che a questo punto si frapponeva tra lui e il suo obiettivo era sua moglie Jessica di conseguenza aveva deciso che doveva eliminarla non poteva limitarsi a lasciarla perché non avrebbe ottenuto gli embrioni doveva ucciderla. Ora che il movente di Mitesh è chiaro parliamo del resto delle prove che la polizia ha trovato e che lo inchiodano al crimine. Come vi ho già spiegato il filmato della telecamera a circuito chiuso installata fuori dall'abitazione dei Patel dimostra che Mitesh era l'unica persona entrata in casa nel giorno in cui Jessica è stata uccisa. Questa è già una prova molto importante è stata sufficiente per arrestarlo perché dimostra che lui ha mentito alla polizia che la storia del furto è chiaramente falsa. Ma questa prova della telecamera a circuito chiuso rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Infatti la polizia ha presto scoperto anche che Mitesh aveva stipulato una polizza di assicurazione sulla vita di Jessica che ammontava circa due milioni di sterline. Quindi qualora lei fosse morta lui avrebbe incassato questa cifra. Jessica anche in questo caso non ne sapeva nulla. Inoltre quando la polizia aveva esaminato la cronologia delle ricerche in internet effettuate dal computer di Mitesh aveva letto cose alquanto inquietanti. Aveva digitato su Google come strangolare qualcuno come uccidere qualcuno e come posso uccidere mia moglie? Si era informato su quali farmaci diventano letali se prescritte in dosi massicce. Aveva cercato anche overdose di insulina e overdose di metadone. Tutte queste ricerche Mitesh le aveva fatte a marzo del 2018 due mesi prima che Jessica morisse. Questo dimostra che aveva premeditato l'omicidio. Chissà da quanto stava pianificando la morte di sua moglie sicuro da più di un paio di mesi. In aggiunta a queste prove quando il corpo di Jessica è stato sottoposto all'autopsia sotto le sue unghie sono state individuate delle tracce di DNA che corrispondono a Mitesh. Non si rilevano altri profili genetici oltre a quello di suo marito e questo significa anche che Jessica aveva provato a difendersi. Quando era tornata a casa quel giorno ed era stata aggredita aveva provato a respingerlo e probabilmente lo aveva graffiato con le unghie. La polizia ritiene che Jessica in particolare avesse graffiato il collo di Mitesh perché dopo l'omicidio lui aveva un graffio in quella zona e i detective gli avevano chiesto come se lo fosse procurato. Mitesh aveva risposto che si era ferito mentre era in palestra quel giorno. Allora le autorità erano andate a parlare con il suo personal trainer che aveva smentito la storia di Mitesh. Non si era fatto male in palestra. Ecco che emerge l'ennesima bugia raccontata da quest'uomo il quale ha inutilmente cercato di nascondere che la ferita è collegata al delitto di sua moglie. Ma non è finita qui perché si raccolgono diverse prove proprio sulla scena del crimine. Quando la polizia e i paramedici erano arrivati a casa Patel dopo la chiamata al 999 di Mitesh avevano visto che a Jessica erano state legate gambe e braccia tramite del nastro adesivo. Inoltre lei aveva anche un pezzo di scotch che le copriva la bocca. Nel perquisire la farmacia dei coniugi la polizia ha trovato un tipo di nastro adesivo che corrisponde a quello utilizzato nell'omicidio di Jessica. Addirittura l'estremità di uno dei pezzi di scotch rinvenuti sul corpo di Jessica combacia perfettamente con l'estremità del rotolo del nastro adesivo individuato in farmacia. In casa la polizia ha individuato anche un paio di siringhe che contenevano insulina sostanza che Mitesh aveva iniettato a Jessica con l'intenzione di sedarla e immobilizzarla in modo che per lui fosse più facile sopraffarla e ucciderla. A questo ricco elenco di prove se ne aggiunge una molto interessante che la polizia ha scoperto analizzando il cellulare di Mitesh. Lui aveva un iPhone e in questa tipologia di telefono è già preinstallata un'app per la salute la quale può fungere anche da contapassi a rilevare quando il proprietario del cellulare cammina o corre o sale alle scale. Quindi la polizia decide di dare un'occhiata più attenta ai dati dell'app per la salute installata sul cellulare di Mitesh. Nello specifico vuole esaminare i dati relativi all'ora in cui è avvenuto l'omicidio di Jessica. L'applicazione rileva che quando Mitesh era arrivato a casa con la pizza quella sera si era recato al piano superiore ed era sceso a quello inferiore un paio di volte tra l'altro correndo da un punto all'altro dell'abitazione. Dunque gli investigatori ipotizzano che l'assassino si stesse affrettando nel mettere a suo quadro la casa per inscenare la rapina finita male. Aveva sparso abiti e oggetti in ogni stanza aveva svuotato gli armadi e i sacchetti per poi gettarne il contenuto sul pavimento infine era tornato al piano di sotto e aveva chiamato il 999. La polizia in ogni caso non esamina soltanto i dati dell'applicazione presenti sul cellulare di Mitesh ma anche i dati della stessa applicazione installata sull'iPhone di Jessica. Questi indicano che lei era stata attiva fino alle 19.04 pochi minuti dopo il suo rientro a casa quindi come già detto si ritiene che Mitesh l'avesse aggredita e uccisa appena lei aveva varcato la porta di casa. Dinanzi a questa notevole quantità di prove contro Mitesh la polizia sa che lui è irresponsabile dell'omicidio di Jessica di conseguenza viene accusato. Eppure nonostante tutte le evidenze contro di lui Mitesh continua a rimanere fedele alla sua storia afferma che amava sua moglie che lei era la sua migliore amica e non l'avrebbe mai uccisa e era stata ammazzata dai ladri in occasione dell'udienza di patteggiamento Mitesh si dichiara non colpevole. Dopo soli sei mesi dall'omicidio di Jessica nel novembre del 2018 il processo carico di suo marito Mitesh Patel ha inizio. L'accusa analizza ciò che ritiene sia accaduto il 14 maggio sulla base delle prove raccolte dalla polizia. Quella giornata era iniziata normalmente durante la mattina Jessica aveva lavorato in farmacia insieme a Mitesh poi più tardi nel pomeriggio lui era andato in palestra era tornato a casa come mostra il filmato della telecamera installata all'esterno intorno alle 15.30 e poche ore dopo aveva chiamato Jessica per chiederle di raggiungerlo. Lei come sempre l'aveva ascoltato rincasando verso le 19.00. L'accusa come la polizia ritiene che Mitesh avesse teso un agguato a Jessica infatti l'aveva aggredita appena lei era entrata dalla porta d'ingresso le aveva iniettato l'insulina e le aveva infilato una busta di plastica di un supermercato in testa per tentare di soffocarla infine aveva deciso di strangolarla a mani nude Jessica aveva opposto resistenza ma il marito era riuscito a sopraffarla e a ucciderla per rendere più credibile la sua storia del furto aveva usato del nastro adesivo e poi alle 19.42 era uscito di casa aveva quindi lasciato lì il cadavere per andare in pizzeria e acquistare il cibo per la cena questo doveva essere il suo alibi mentre aspettava che la pizza cuocesse era entrato al volo nella sua farmacia per nascondere lì il rotolo del nastro adesivo poi era tornato in pizzeria aveva ordinato il suo ordine ed era rincasato alle 20.15 una volta all'interno della propria abitazione Mitesh aveva iniziato a correre su e giù per le scale mettendo a suo quadro le varie stanze come ha rilevato l'absalute del suo iphone tutto per simulare una tentata rapina poi Mitesh aveva spento la telecamera a circuito chiuso posizionata fuori da casa sua forse si era scordato di farlo prima dell'omicidio ecco perché aveva nascosto il disco rigido sotto il materasso del suo letto infine alle 20.24 nove minuti dopo essere rientrato a casa aveva chiamato il 9.99 Mitesh ha dato avvio alla sua performance infatti durante la chiamata fingeva di piangere sembrava isterico sinceramente spaventato e affranto aveva continuato ad assumere questo atteggiamento anche nei giorni successivi tanto che i familiari di Jessica una volta a conoscenza della drammatica notizia si erano diretti da lui per confortarlo lo avevano abbracciato gli avevano detto che lo avrebbero aiutato a superare questo momento così difficile per lui non immaginavano affatto che fosse stato lui ad aver ucciso Jessica come è emerso considerando il movente Mitesh ha ucciso sua moglie perché non la voleva davvero al suo fianco lui è gay e si è innamorato del suo amante Amit che ora vive in Australia le uniche cose che Mitesh voleva da Jessica erano i soldi dell'assicurazione della sua vita e i suoi embrioni li avrebbe portati con sé in Australia impiantandoli in un'altra donna consensiente avrebbe vissuto felice insieme al suo ragazzo e al bambino generato grazie agli embrioni di Jessica mi chiedo onestamente come Mitesh pensava che questo piano avrebbe funzionato perché vi giuro io non me ne capacito il processo in realtà dura abbastanza poco circa 12 giorni dopodiché la giuria delibera e data la quantità di prove concrete e solide raccolte concorda con la tesi dell'accusa ritiene quindi Mitesh Patel colpevole dell'omicidio di sua moglie Jessica il 5 dicembre 2018 l'imputato viene condannato all'ergastolo con un minimo di 30 anni quindi potrebbe essere rilasciato nel 2048 ora però soffermiamoci un attimo su Amit l'uomo di cui Mitesh si era innamorato alcuni di voi potrebbero chiedersi se lui fosse coinvolto in questo piano malvagio se avesse aiutato il suo amante a pianificare l'omicidio Amit sapeva cosa stava progettando di fare Mitesh a quanto pare Mitesh aveva inviato dei messaggi ad Amit che suggerivano cosa avrebbe fatto ad esempio scrivendogli che i giorni di Jessica erano contati ma non aveva mai detto esplicitamente che avrebbe ucciso sua moglie per stare con lui Amit in pratica pensava che Mitesh avrebbe semplicemente lasciato Jessica per poi raggiungerla in Australia infatti l'amante non era neanche stato convocato per testimoniare in udienza durante il processo anche se Mitesh viene rinchiuso in prigione le autorità competenti devono ancora svolgere un'analisi per omicidio domestico col fine di determinare se nel caso di Jessica siano stati commessi degli errori di valutazione si sa con certezza che Jessica aveva subito degli avanti da parte di Mitesh durante tutti i nove anni del loro matrimonio quindi c'erano dei segnali di allarme che non sono stati rilevati l'omicidio di Jessica avrebbe potuto essere evitato se questi sentori fossero stati avvertiti prima sfortunatamente Mitesh e Jessica non erano noti alla polizia prima della sua morte infatti lei non aveva mai contattato le forze dell'ordine in merito al comportamento violento di suo marito la revisione quindi ha concluso che l'omicidio di Jessica non poteva essere previsto questo caso come molti altri ci dà delle lezioni importanti da imparare è necessario prima di tutto approfondire i segnali che possono essere indice di abitare e di violenza domestica del resto i familiari gli amici e i colleghi di Jessica avevano notato come hanno dichiarato alcune stranezze nel suo matrimonio con Mitesh ognuno di loro era in possesso di qualche informazione legata ad avvenimenti spiacevoli che purtroppo considerati singolarmente non hanno generato una risonanza tale da fungere da campanello d'allarme soltanto quando gli inquirenti hanno ricomposto il quadro d'insieme si è reso evidente la v**o che Jessica stava subendo per mano di Mitesh anche la necessità di Jessica di recarsi dal medico per curare l'ansia e gli attacchi di panico poteva presentare un segnale di pericolo il medico le aveva prescritto un farmaco adatto ai suoi disturbi ma l'indagine condotta sul caso ha determinato che gli operatori sanitari dovrebbero chiedere alle donne che cercano aiuto per gestire l'ansia se subiscono chissà come avrebbe risposto Jessica a questa domanda forse sarebbe stata sincera col medico gli avrebbe confidato la verità dunque lui avrebbe potuto fornirle dei consigli per uscire da quella relazione violenta ovviamente non sto attribuendo ai dottori tutta la responsabilità di cogliere i sintomi di maltrattamenti e sottomissioni presenti in una relazione tutti noi in realtà dovremmo essere più attenti al mondo che ci circonda conoscere i potenziali segnali di allarme collegabili agli abusi domestici in modo da poter identificare se qualcuno che conosciamo sta vivendo una situazione del genere la famiglia di Jessica si è dimostrata molto favorevole alla revisione del suo caso e ha rilasciato una dichiarazione che vi leggo immediatamente speriamo che la revisione di questo caso aiuti altre vittime e le persone a loro più vicine in modo da riconoscere le varie forme di abuso e rimuovere eventuali barriere culturali o di altro tipo per cercare aiuto e ottenere il sostegno di cui hanno bisogno come famiglia questa revisione è stato un processo estremamente doloroso ma riconosciamo l'importanza di evidenziare la storia di Jessica per dare voce a lei e ad altri che potrebbero soffrire in silenzio facciamo in modo che questo atto maligno non si ripeta e incoraggiamo tutti ad aprire gli occhi fate domande e non date mai per scontato che tutto vada bene trovo che questo discorso sia perfetto che possa spronarci a riflettere so bene che si verificano tanti delitti legati al femminicidio la speranza è che le donne vittime di aborto siano sempre di meno che per loro diventi più facile e sicuro allontanarsi dai propri carnefici e che riescano in tempo a riconoscere cosa è davvero l'amore e cosa non lo è affatto questo ci porta alla fine del video di oggi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo caso perché sono sempre molto curiosa delle vostre opinioni onestamente io un movente del genere non l'avevo mai sentito e quindi ci sono rimasta un po' male quando effettivamente stavo cercando le fonti per scrivere questo video è incredibile che quest'uomo pensasse di farla franca io mi chiedo come avrebbe messo in atto il furto degli embrioni questa è una domanda che mi preme proprio a cui non riesco a dare risposta fatemi sapere se magari voi avete qualche idea io nel frattempo insomma vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!